Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Crunch completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni le gambe flesse e i piedi poggiati al pavimento. Non sollevare la zona lombare dal pavimento. Non sforzare il collo. Per aiutarti, fissa il soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Twist a terra. Via! Se non ce la fai, poggia la zona lombare al pavimento e tieni sollevate solo le spalle. Fai attenzione a ruotare solo il busto. Per aiutarti, mantieni lo sguardo fisso di fronte a te. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch inverso. Via! Se non ce la fai, tieni le gambe già sollevate ed effettua solo la rotazione del bacino. Fai attenzione a non inarcare la zona lombare quando avvicini i piedi a terra. Per farlo, mantieni l'addome contratto. Controlla il movimento per evitare problemi alla schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Power crunch completo. Via! Se non ce la fai, tieni le mani poggiate al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, via! Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Per non oscillare con il busto, tieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Mountain climbers. Via! Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Non piegare la schiena. Mantieni la parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. 6, 4, 3, 2, 1, stop! 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Crancio laterale completo. Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank più rotazione del bacino. Via! Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Via! Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via! Muovi esclusivamente il bacino. Ginocchia e spalle devono rimanere sulla stessa linea. Esegui i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alla schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via! Non guardare davanti. Rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia. Tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Non piegare le braccia. 6, 4, 3, 1, stop! Grazie a tutti